Ciao a tutti e bentornati nel nuovo episodio della serie incentrata su Luck Room, Pokémon Mario Merda 2, allora siamo qua, iniziamo la nostra Lega Pokémon, ho fatto la scorta, bimbi vi faccio vedere, com'è non c'è nessuno, ora si guarda se è un errore o no, speravo di no, madonna che cavona, se non c'è davvero nessuno, no se non c'è un bug, vabbè, un attimino, prima voglio farvi vedere che ho comprato la peggio roba per poter essere pronto ad affrontare la Lega, adesso riceviamo questo problemino, qua non c'è nessuno, no a parte di scherzo, senza nemmeno un errore, Baviter, Joe, no, mi vorrei aver buttato via la serie, pigiama, le cose a caso, dai, cosa devo fare, c'è qualcosa, addio, ti do il benvenuto alla Lega Pokémon, sono la donna invisibile, dai, ecco per cui c'era, un Hano, ora è venuto in mente, sì, Fantastici Vattro, loro in realtà siamo super 4, l'hanno invertito, diciamo, cioè hanno ambiato, tutto il coso, loro sono Fantastici IV, cioè devo avanzare i Fantastici IV, vabbè, fanno la bomba subito, si scoprirà, ho detto una bomba o no, la scelazione, vai, ciao bella, ciao bella, Ale, vai, è uno, si fa un po' di turn over, mamma Jimbo, si coraggio, vuoi farsi più veloce, Buono, mi dava tanto, insomma, non sapevo di più, usiamolo, ha rotto un po' i colloni, si coraggio, eh, Dio, buono, speravano un corpo un po' più forte, deve, ricaricata tale, stavo in pensiero, Speriamo di un fallico il carcere in volo, eh, perché fra l'altro, come sapete, penso, se fallisce il carcere in volo, oltre a fallire, ti fa anche del male da solo, buono, Dai, che palle, Vuoi droppompa? È morto? Sì, buono, vai, e ci siamo, qua Luigi, voi, mettiamo merda, un'ultima fatta il 9, non so nemmeno mai mai, cioè, dopo che ho visto 9 volte tutto questo, meglio andare subito con merda, non so nemmeno mai, fango bomba, abbiamo un po' Antonio di leva, no, pensavo più di metà, gli allas usato il terremotone e via, magico terremotone, come vediamo, come sempre magico, magico terremoto, scelga e scoob, va, lo arriviamo con merda, gloria, fango bomba, andiamo un po' quanto ne palle va, metà c'è arriva? boh, eccoci, anche troppo, ora speriamo, non usi un'altra porta, cose, il carico totale, ma ci avrei giurato, le palle, guarda, boh, che palle da bebede, vai, magapugno, e ora, fango bomba, siamo già, a metà, eh, di pipì di fango bomba, siamo messi veniti, no, perché? dai, prima l'aveva, l'aveva lavato uno sbotto, dai, che palle, magapugno, falli, andate, di, di, terremotone, bimbi, anzi, vediamo se va, colpo di fango, va, va, che mi pare, l'uno mi ha beccato, tra l'altro, velocità, chi se ne frega, scusa, si prova usare magapugno, adesso vediamo un po' se succede, qui c'è da usare due perpozioni subito, colpo di fango e non si rischia, vai, per questo tale basta, perché ne ha già usate due, anche tre, via, e se andate anche da due, buono, vale, e il primo super 4, oh, fantastico vattro, è andato, è più forte quanto pensassi, ok, quindi ora, zaino, iperesporsione, mazimbu, vai, allora le rifili tutte, la verità, no? vai, 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 o l'è, è andata, è merda, vai, è una è andata, andiamo di volata al ziondo, dai che sono carico, perché ci sono sassi, no, se hanno sostituito, i super 4, con i fantastici vattro, probabilmente vi c'è la cosa, vediamo un po', sono la cosa, eh sì, vai, preparati a perdere, pesta, subito dio sì, allora, vediamo un po' che pokemon c'ha, Onyx Carp, è quasi quasi mettere Wimp, tanto, probabilmente se tu, come tutti i carp, c'ha Splash, inoltre, o è di roccia, o è d'acqua, perché non si sa mai, infatti Splash, ce l'ha, a regola, con Foglie Lama, dovrebbe distrugge, vediamo se, no, sassata, sono rimasto di merda, Foglie Lama, ma come fai fallì, non mi è mai fallito in vita mia, Foglie Lama, fallisce lì, oh, lì mi hanno allevato quasi metà vita, accidenti, oh, nei scappi di merda, Rossi, nei titoli di rumorino importante, di Foglie Lama, eh, distrutto, andiamo un po' a chiarese mondo, Popeye, io ho il magico Popeye, no, quel cazzo, si torna di volata da Merdame, dove è Merdame, dove è il secco, ti vedevo, terremotone, di volata, che se me, Popeye, non so se lui, adesso c'ha mosse importanti, eh, vai, to, su, se si fa, sali a, io ho Magin V, arti e tanta vattro, Magin V si lascia sempre Merdame, oh, e c'ha mi Pokémon, c'ha, a parte Onyx, ancora, magico terremoto, quel livello è simile a quello prima, però non è una cosa da notare, boia, no, ora vuoi se ricarica totale, anche lui, ta' vediamo, bella, bella, metronomo, come se forti, allora si usa, Megapugno, e poi terremoto, a meno che, Megapugno, lui, le ve lo sbotto, a vedere, il solito troiaio, terremoto, vai, regola schianti, eh, ma c'è un buon teoria, da un po', e si, dildo, 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 dì, allora si mette, di un'altra volta, wimpy, con foglio a lano, e dildo, bisogna stare attenti, perché era abbastanza veloce, sperando che non vada giù, quella merda, non si fossa, ta' vedè, tempo di dildo, e, terremoto, mannaggia, è meglio fosse, meno male, dai, 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 muore, 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 no, cosa si fa? si vischia, no, speravo in fossa, si può, lo potevo levati, po', allora si mette, trombino, non si usa surf, perché surf, dovrebbe levarli tanto, in teoria, come sempre, surf, terremoto, rotto il cazzo, di, no, boia, 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 meno male, vai dildo, surf, si dildo, va trombino, surf, e c'è il magico trombino, smigo, smigo, eh, madame, vai, a riborda, tanto il mind è stato così, sa che, ci porteremo merdame fino alla fine, fino a che non finisce le mossa, almeno, colpo di fango va? si, lo usiamo anche questa, ogni tanto, metà, metà, andrà sul rosso, se li uso, colpo di fango, non fallisce mai, non fallisce mai, fallisce mai, ragazzi, vediamo, bene, mi levi una fiega, farò a velocità, però rimango fu veloce io, si, nooo, non lo usi ricaricata, maledetto lui, ora provo già un mega pugno, vediamo quanto ne può toglie, la telecom, riprende la vita, mega pugno, e vedi, atti, cosa fa meno variante certi, vai 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 vai, vediamo un po', impazzito, impazzito mega pugno, colpo di fango, vieni, vale, se si fa a stare a 74, vediamo un po', che farebbe comodo, andiamo, buono, e anche il secondo è andato, eh bimbi, vai lì, come sempre, un attimino, rivitalizziamo, il nostro caro amico, Wimpy, perché comunque, ha combattuto con onore, poi, tac, ma Wimpy, beh sì, anche se sono i più opzioni, si usano uguali, che mi pare una vecchia, no addio, mi stavo riferendo, scusate, non l'ho detto, poi per usare anche a Madman, che, non c'ha, quella, quella vita da dover usare, vi per pozione, vediamo se ci sta altro, ci sono gazzini, allora si usano i per pozione, tanto, malevada ci sta, 777, ricarica totale, e pozioni max, quindi, buono, andiamo avanti, oddio ho sbagliato, andiamo un po', chi ci sarà dopo, dè, chi ci sarà, ma la terza umana, tanto, se sono fantastici vattro, vai, se sono una torcia umana, te fantastici vattro, voglio davvero avvicinarti a me, e dire, andiamo davanti, allora, vediamo un po', se, c'ha il pokemon di fuoco, che non sarebbe male, eh, se c'avessi il pokemon di fuoco, quasi quasi, userei, dildo, così, magari l'allena un pochino, allora, il primo è di fuoco, buono, c'ha Rileon, e vai subito a casino, vai bello, fa vedere, yes, e uno è andato, secondo chi è? trombino, ma trombino non è me di fuoco, trombino se non sbaglio è, acqua e, lotta, tipo roccia, non sono così, quasi quasi uso wimpy, sinceramente un lo so, magari ho fatto la cazzata, però, se è d'acqua, se uso foglie lama, anche se è roccia, fra l'altro, se uso foglie lama, arriva la rilevano sbotto, il zonino è quello, fa vedere, uuuu, wimpy bear, magico, lolly, no, lolly si cambia, si rimette merda mia, vai, le super chicche, si, fango bomba, buono eh, l'allavato è giusto, vai, il lavoraggio di merda, va a colpa di fango, boi, anche troppo, a saperlo prima, lo usavo prima, non pensavo fosse, così debole, né in fronte di olpe di fango, c'è ride, ora si va da, dal dildone, vediamo un po', ma si può vedere, vai, anche i livelli, dei, dei pokemon, per ore, no, diciamo, molto simile, nel senso, io mi sto intendendo, mi sto confondendo tutto, allora con calma, i fantastici quattro, i pokemon che hanno, i pokemon che hanno, i fantastici quattro, nonostante, magari in teoria, più va avanti, più dovrebbero essere, di livello più arte, ma l'edetto, la migliore è morto, comunque, l'iddo, accidente a lui, tutto merda, vai, in realtà, sono, sono molto simili, se non uguali, meglio si, come non è effetto, ma io stavo parlando, non ci ho fatto caso, no, come non è effetto, terremotone, nooo, gloria, no, mega pugno si, ma cosa vuol dire, che non è effetto, maledetta, la miseria, fango bomba andrà, si, dio, buono, e ora usa cosa, e ora userà, la cosa, la ricarica totale, ma è tutto un vino, che c'è a surf, anche se è 45, probabilmente morirà, almeno però a surf, una volta dovrebbe, dovrebbe usarlo, a vedere, fatti, che cosa ci combina, che, non ha effetto, le mosse tipo terra, non hanno effetto, e lui l'ha capito, ora terremoto, ci può anche stare, perché magari, può volare, tra piccoletti, ma colpo di fango, comunque l'ha ammazzato, magico trombino, ammazza un pokemon, di 9 livelli, più arti di lui, Iago, cazzo è Iago, aiuto, boh, lasciamo trombino, che era Iago, ahhh, non li ho, vediamo un po' se surf, lava tanto, sì, vabbè, in realtà sì, anzi, in teoria, pratica no, ho fatto il rumorino, da mossa che lava tanto, comunque lascio trombino, mi piace, mi piace, è aggressivo il bambino, sì, lava sempre di meno, perché, perché, è bastardo Iago, è bastardo, sei scorretto, sei scorretto Iago, usi di pressa di AC, no, cambia, cambia poco, si può mettere, boh, mettiamo, Zap Toast, bene, bene, c'ho il piacere, che mosse di merda, volo, certe mosse di merda, Zap Toast, ragazzi, proviamo, proviamo, ho levato un po', però, mi aspettavo, al cosino di più, mi piace, a levare più alto, proviamo, a compiere, il fuorbecco, ho usato di carriere, meno male, ho usato di pressa, anche se, dè, ripila tutta la vita, però, ne prendo abbastanza, tio, monadie, cosa fa, ho la sua pelle lunghe, dov'è, non l'ho letto, eccolo qui, i vitalizzanti, merda, è un classico, se, un colpo di fango, dovesse andare, gli dovrebbe levare parecchio, in teoria, si guarda, bimbi, allora, intanto, rimaniamo con Zapto, poi se mori, o mi rompo le palle, perché magari, vestito le volte da ripresa, allora si ambia, o a regolo, deve avercela fatta, perché se attacco, io, o a regolo morì, vai, che palle, vai, eh, ricarica totale, ricarica totale, di solito lo usano, ma la vita è rossa, maledettile, di solito, che palle, via, uno, giusto, sì, che l'abbia levato di più, allora, il maledetto, già ripresa, sta vedendo, bimbi, non ci si fa, non muore, e noi si rifa, si riattacca, maledetto, maledetto, due ore, Iago, no, basta, via, metto coso, solo tre palle, due ore, metto merda, sperando che possa andare colpo di fango, che secondo me, potrebbe essere, eh, super efficace, comunque è venuto un dubbione a me, mentre stavo dicendo sì, che mi sa che il colpo di fango non va, perché se non era prima, con, diciamo, tra virgolette, Charizard modificato, magari può volare, e mi sa che non va nemmeno con Iago, guardiamo un po', spero di sbagliarmi, ma mi sa, e lo sapevo, maledettamente, opriamo con fangonda, regola bella va, fango bomba, buono, avvelenato, mega pugno, ci si fa? boh, finalmente, perché era more col veleno, boh, finalmente, ci si è fatta, due ore, si è fatta, si è fatta, come sempre, come sempre, risistemiamo tutti, ho sbagliato, vai, merdame, il dildone, che sinceramente, mi ha un po' deluso, anche se lui non ha tutte le colpe, era tale colpe su me, perché vedrai, se sapevo che fossa, non andava, contro, c'è risalde, che la camo c'è risalde, perché non mi ricordo, il nome originale, che l'hanno dato, probabilmente, non schiantava, no? poi, 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 l'ultima, le prozioni, io, in più, per ragazzi, lascerei, sì, un app, per far il tirchio, però, credo che non debba essere, probabilmente, non lo userò, credo, addio, cioè, se mi mette a casa, se c'è Pokémon davvero, tipo Drago, credo che non lo userò, eccoci qua, a